ripreso da Mastro il Mondialone e prima di metterlo a riposare vediamo un po' queste gallerie se possono darci dignità, c'è il traffico, c'è un po' di traffico normale, la Roma capitale dopo un week lungo, un pochino rallentata diciamo anche un po' di pioggia ma fa parte del weather, ma mai più dove stanno, ecco allora date un po' di piglia ai vostri cavalli, dategli in piada, dategli un po' di spazio, date davvero agli assedati, date gallerie agli amanti delle macchie, e se io dove sto male, è un mouse, non l'ho capito, non l'ho capito A MENI!